buongiorno a tutti il nuovo capitolo di uncharted allora siamo dopo il come si chiama il quattordicesimo capitolo ora 15 non mi ricordo più ok in teoria si siamo ci siamo persi dobbiamo tornare ok in teoria dobbiamo dobbiamo salvare sempre di nuovo è una scala vabbè quasi ci siamo arrivati vicini e allora è sulle spalle cavolo un po' mettiamo una scarpa sulle spalle così difficile potrei avere la scala ok poi siamo su due secondi dovete fare il modo di fare il giro a qualche ora ok abbiamo fatto il giro credo sì sì siamo riusciti a fare il giro ah no piccolo il secco vabbè ce l'avevano quasi sì sì ci siamo riusciti ok e allora io direi di qua infatti di qua sì ok ha riassunto tutto in dieci parole voglio vedere quello è il sensore ingegnere si è che non è difficile intubiare dove andare non mi dimentico il vecchio piccone da roccia ecco 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 eh già e capire come arrivarsi e capire come arrivarsi giù girei girei intorno e capirei girei intorno un cazzo non si è capito niente aspetta roccia roccia ho il piccone da roccia no esatto quindi e quindi ecco qua no speriamo di riuscire a farsela in sono affondato ah no ok perché è nuoto no così andiamo controcorrente oh io non lo so aspetta eh no dobbiamo usare tipo una cassa e infatti ho qualcosa da pure esserci no un mass no questo non si può spostare è un po' facile perché sono sotto acqua che c... non è acqua questa ah ah non sapevo di poter andare di qua ok possiamo fare più in fretta ecco ora cavolo no io non posso e che cavolo no dove ecco dove ah qui eh infatti ho una piglio va bene Dov'è? Aspetta Che mi sposto Che magari E mi arriva il cassone in testa Un po' da caso Sempre le solite casse Ah no Dobbiamo farlo dalla terraferma Ecco Tiriamolo Qui Ok fatto Bene Ora possiamo Qui Ecco qui Messo apposta Perfetto Ora possiamo salire Oh ci è voluto Che si è mancato poco Facciamo il giro Non so ne che io devo andare Quindi A giù Appiglio Piccone Appiglio Solita combinazione Bel salto Si E poi Oh no Eh no Che schifo Eh ci è mancato poco Si Adesso sto bene Oh cavolo Non lasciamo perdere E facciamo Esatto Ora ce l'abbiamo fatta Dov'è? Che cavolo è? Dov'è? Dov'è sto ascensore? Però com'è fatto a farlo funzionare? Sali Ah Ok beh Ammettiamolo qualcosa Sta crollando Oh oh E ora? Oh io sono bloccato qua eh Io come faccio? Allora Qualcuno mi spiega? Ah Capito Ho messo un incantato qua Qua Enesimo tunnel Gobo E Oh Ah si va bene Sempre quella La sostanza Esatto Su E Attenti Merda Ehi che cavolo però è Eh si lo so Perfetto Eh sto morendo il cavolo Che ho il corso che Ho il joystick che tremo Va bene Ora che siamo qui Meglio Cambiare No Di qua no Di qua La scena più ragionevole di qua E invece no Meno che Eh no Ok Ho fatto fatica a vedere Viste appiglie Beh Almeno così ci teniamo in forma Giusto? Adesso di qua Ti prego prendilo Ok Perfetto E su Ok Era tutto esaltato No era tutto esaltato Pensavo Una piglia Andiamo Invece no Era un semplicissimo ramo Dove Ah di qua E io che andavo come un pirla di là Oh cazzo Esatto E prendiamocela E mo Adesso Ok Piano Piano un cazzo E che cavolo Cosa Cosa Cerchiamo di non farci individuare Soprattutto Questa è Sparta Funziona sempre Aspetta Munizioni Ma come fa a vedermi? Scusate Se mi vedono Zitto Ora Siamo in mezzo all'erba Quanti ci stanno guardando? Uno da che cambera E c'è anche un cecchino Ok Quando vede in mezzo all'erba Uccidiamo Se E piano Silenzio Non c'è nessuno Si è accorto di niente Ok Diciamo che Vabbè E poco importanza E questo qua Quello che mi Trovo andato Eccolo Eccolo E' un nuovo corzato No Shhh Vitto Aspetta Prendiamo questo Prendiamo questo Benissimo Questa mi piace Come arma Ok Cerchiamo Io posso Mollicinare tutti Dopo Prendiamo la macchina Ma si Prendiamo la macchina Non c'è nessuno Ok Andiamo Esatto Esatto Ditto Adesso Giù per l'acqua Non me ne prega un cazzo No Non lo sapevo Ok Mi ha cechinato Dopo E' di Hot Beach Ma non sapevo Dove andare a prenderlo Ancora da qua Vabbè Tanto vale Ormai ci siamo già trovati Giusto Non ce l'ho pensato Ci sta guardando uno Questo è corazzato Quindi Ecco qua Qua Vabbè L'abbiamo ucciso Lo stesso K Vabbè Quindi direi Di andare su E Giù Come Quello C'ha visti Aspettiamo Che venga qua Aspettiamo Chi è Ah Ok Non si aspettano Di nulla Ok Piano 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 Ditto Perfetto Perfetto Sta andando tutto Liscio Che strano Direi di fare giro Tipo Esatto Dico Però Vedi che non ci teniamo occhio Questo No Mi piace Come ho fatto A spagare la cosa Ma come ho fatto Ok Speriamo Speriamo che non si giri Di qua Se non vede il cadavere Sono cazze Piano E adesso Lo muazziamo Come ho fatto Ma che cavolo Ecco No Non fila mai Tutto liscio Vero Su Dove è il tizio Che si spara Ecco Dove Sbaglio È giù Non è su Che perla Questa è una spara grafica però È potentissima Dov'è? Non vedevo il mirino Esatto Non ho capito Cosa ha detto Non ne uscirai E dove andiamo? Ah su Per il fiume Arreo mi pidi per il culo Su per il fiume Io ci sono andato Su per il fiume Ah di qua Prima eravamo come Per le cascate Questa è una cascata? Ho paura che mi stanno Per culando Ok Cerchiamo di non Dove? Ah quello Ok stavo dicendo Mi sa che ho una brutta esperienza Qui fu in strada Ah Reif Adler No Quindi di là Invece no Il casini Quindi esatto Giù di qua E dunque no Su di qua E' un buono spunto E' perfetto Sotto le cascate c'era un passaggio Si come no Io non vedo alcun passaggio Io non vedo alcun passaggio Credo volesse raccogliere tutti gli indizi su Evo Prima di lasciare E' un buono spunto Oh cavolo Eh bravo coglione Infatti è stata No Per fortuna Però non è stato del tutto Una mossa bastarda Quella di sempre Però eh Appunto Ha fatto finta In modo Così Ha preso Ehm Dov'è? Dov'è? Così Ha preso tutti gli indizi Da Rafe Dopo la presi con noi E così C'era uscito a prendere A raggiungere il tesoro Una mossa abbastanza L'astruta E' questo? Oh Ci siamo bloccati Bene Andiamo un'occhiata Ah Andiamo un'occhiata Qua c'è una leva Credo c'è una leva Ci siamo Ok Giù di qua Saldiamo Come le menti Cosa è Super Mario? No Niente di quello Ah Ah Capito Steranzetti No Non ho capito Ah Andare lassù Di qua Non vedo se è possibile Quindi Di qua Di qua E però Ah Ah È piccolo Una roccia Per cosa lo usi A meno che non Mi sembra di aver capito Ma tanto vale provare La macchina Sembra Sì Di impiantarla Mi sa No Non sta a dirmi Ah ok Mi sono detto Mi sono detto Cazzo Mi ha impiantato Un manovre Proprio di merda E quindi E quindi Aspetta 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 Ecco qua Ora Il garetto E facciamo Un giro Dovremo Dovremo Buttare Tutto E dai Spaccati A cosa Che dobbiamo Fare almeno Non è successo Non è successo Granché Ha fermato La ruota Non credo Ci serva Bene Ah Ok Credo che Serva per Qualcos'altro Invece Ok Aspetta E adesso La rifacciamo Di qua Però Dov'è Ecco Qui Ci siamo Quanto è lungo Sto garetto Ah Oh Io sto qua Per fortuna Che ha funzionato Per fortuna Ok Siamo qui Da salire E ho una cassa E con questa Che si va? Credo che Dovevamo salire O ce la fai? Ecco qui Infatti Però prima Tesoro Mai dimenticarvi C'è qualcosa Che c'è qualcosa Che civola Dobbiamo andare su No Quasi Ok E adesso E fatto Ora Andiamo Per questa finestra Vediamo Se qualcosa Ti è utile Per la ruota Per la ruota Ah Giusto Serviva Ecco che serviva La ruota Fermata la ruota Ora Grazie Ora cerchiamo Così Ma l'hai fermata almeno Bene Ora dobbiamo agganciare I Cerchissi Ora dovremmo Uscire Un ascensore Dove è che dobbiamo andare Scusa Oh io sto girando A vuoto Ah qui Bene Ora Vediamo se funziona Oh pesa Spero funzioni Cioè mi ha fatto Una fatica E io come arrivo su Ah Sì va ok però Me l'ho fatto apposta Va bene ci sono E adesso E adesso Ah ok Passiamo al giro Ma dai Vaffanculo Da fermo Fermo la Wow Cicchilato In testa Ok Stiamo coperti Ah Una grafica Già morto Perfetto Ok Quello Ah no no È un pezzo di roccia Cosa che si spara? Oh no Non fare Mosse a vent'arte C'è qualcuno che ci spara? Perfetto Ah spara Spara fortissimo E' fortissima sta qua eh E' fortissima sta qua Fa delle raffiche che Ma no Levatevi Ora possiamo salire Ehi Morto Trovo con una granata Per rompere un cazzo Meglio stare qua C'è chi è nato in testa Quindi ok la cosa qua Vediamo come ci ripariamo C'è chi? Oh ma siete seri? Oh che cavolo Dov'è il tizio con l'RPG? Ok uno è morto Ma Eccolo lì Ti ho visto Stronzo No Non è lui Visto Non dobbiamo Eh No Ho sbagliato Persona Si Aia Ha fatto parecchio male E cosa vuoi che faccia? Si ok ma Sai in che merda sono io? Sono allo scoperto Di dopo? Qualcun altro? Oh cosa posso fare? Ok proviamo Oh No No Ah ok Vabbè c'è Io spero Io pensavo di essere già morto Invece M personalizzato Dove cavolo vado adesso? Credo che ci debba No Ok credo di accemi ci ha avuto da solo Ah no Qua 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 ho capito Giù Giù devi andare Spero che bisogna andare giù E qua si va sempre su E quindi E adesso Che faccio? Devo No mi sa che ho sbagliato strada Quindi Proviamo il senso inverso Ma cosa cazzo? Dai sporgiti Lo trovo? Positino troppo Morto Bene Morto Ok Eh no Ero Distratto Adesso cosa faccio? Ok cambiamo Che qua E' finito Ok Visuale migliore Oh E torniamo qua Ah non c'avevo Avevo scartato St'idea qua E proviamo No E Ecco qua Era da tempo che volevo farlo Morto Morti Tutti e due E Cavolo Speriamo non ce ne siano No ecco sapevo io Morto Morto Ok ti sporgi un attimo Sei morto No qua Dai Aspetta Cazzo Chi è qua? Morto Che dove 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 Con Non c'è granate E adesso Ah devo andare avanti Ok sono E che Sono in una Facitazione facile RPG Quanti mi si No sul serio Un proiettile mi mettete Nell'RPG E' tipo E' una bestemmia sta qua Cagliamoci un po' Di più Indietro Avanti dai che dobbiamo raggiungere Come fai a non raggiungerlo? Ma i salti tre volte più grandi Andiamo avanti così a caso No Se non mi da la manina così Vuol dire che non puoi saltare Adesso posso saltare E dovete tenere in mente sta roba qua Perché se no Vi fottete Ah però Ho poi un modo ignorante Di arrivarci Entra così Ok Possiamo andare E qua Ancora Sup No Non è che tesoro sia tutta una trovata Che non so Può darsi Ok E' un po' troppo tranquilla Come via E allora Quindi facciamo il giro Oppure Garetto Ecco Fai il giro di qua Ok Vedi i simboli Vedi i segni Dei proiettili Ma non posso scendere qua No Peccato Cosa che dicevi? Qua non è forte la corrente Qua non è forte la corrente Forse è così Eh no 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 Non lo spostiamo Eccola Vedo un passaggio No Illusorio E allora E dove vado adesso? Ah Evita Oh mio dio Non lo sapevo No Ci ha trovati E dove andiamo dunque? Io non so dove andare Facciamo di far fucire Ma questa è una buona idea E per Evita l'acqua Ho capito E allora dove vado? Buh Ah Così? Ah però Un cambio Cazzo È sull'aereo Ma qualche qua Quale? Ah questa qua Chiusa C'è tipo Intendi Gta Intendi Ah Ah no Pensavo di poterla scavalcare Scendiamo Di nuovo Non mi piace come soluzione Dove? Per poco E adesso che si fa? Oh Devo prendermi proprio così Fate che se voglio Rifaccio Di qua Perfetto Siamo riusciti Ora Ah qua c'è appunto Una 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 Leva Spero non venga Una cascata giù Quanto può Ecco L'altra L'altra Ah Dobbiamo fare il giro Come è bloccata? Non si passa la macchina qua Come? Ah Ok Proviamo questa C'è una cascata Questa Ah no Non c'è niente Quanto peso Questa Questa Dica Sembra Adesso Posso? Spero che Spero che Ora ce la facciamo Spero Perfetto Bene Ora di qua E tutto Tutto non va Proviamo a fare un salto No Quasi Pecca E come Ah capito Ma non c'è tanto faro C'è più Oh Ce l'hai quasi fatta Non dirmi E dai Non può essere difficile Visto? Era così difficile? Guarda qui E adesso Sì che ce la facciamo E si È spaccato il ponte Ma è strano che Non aggiungla così Non ci sia neanche quelle Un Un animale Un orso Niente Oh Siamo contro corrente Per fortuna Non era così forte La corrente Guarda dove dovemo andare Ci stiamo girando Un po' a vuoto Perché vedo una scala Lì? Che ci sia qualcosa Di utile? Messa qua opposto Dove? Probabilmente Il custode Della Il custode Ah no Infatti Un tesoro Tipo Vediamo Sì ok Si sono stati Trablati Aspetta No 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 Non ho visto Vabbè Si è rubagato Il modello Facciamo il giro E torniamo Sulla macchina Dove l'ho parcheggiata? Dove l'ho messa? Eccolo qua Si mimetizza Si è teletrasportata Ho fatto le scale apposta Per E come ci saliamo? Dove? 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 O non ho la minima idea Proviamo di qua Ma no Correnti Esatto Niente Di qua che c'è una ruota Credo Credo Non ho visto che Dobbiamo fermarla Prima Non so come Questa c'è un passaggio Si parecchio utile Ora Non c'è una specie di Ah Ho trovato un tesoro Sul serio? Ahia E l'assessore Com'è che lo Attiviamo? Ah Si trotterrangolo qua Non pesa sta cosa Infatti Si alzare di schiena Si ci ardono indietro Dai Avanti Si bisogna essere in due Per questo Infatti Ok Speriamo bene Boom Ora esplode Che strano Secondo quale meccanismo funziona Questa cosa? Si sono arrivato male Ora Non troveremo Dove? Ah Si è un bel paesaggio Dopo da Un discorso epico Erano i guai fino al collo Chi ti ha detto? Ah Quanto pezzo Oh Siamo arrivati Finalmente Possiamo togliersi Dalle cose Ancora Di nuovo Io sono qua Ok E spero Spero Non si rompa Di nuovo Infatti C'è Sam Che non so Se sia già morto Quindi è meglio Se ci muoviamo Quanto è lontano? Poi la strada dritta Poi due statue Quattro statue No Tre statue E mezzo Sembra anche Fin troppo facile Fin qua Tutto Il tuo scenario epico E da colonna Sono repiche C'è tutto Anche i segni Anche i segni Di dispare Sul Sul finestrino davanti Se quelli sono L'ignoranza Che mancava Oh se mi ha fatto apposta Stasera da qua Guarda che Che c'è Eh grazie Ancora in volo Ho visto diversi veicoli Della Chorlet Diretti a nord Oh 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 Uh huh Abbiamo avuto qualche informe Niente di serio Beh Niente di serio Uno con l'RPG Si sparava Niente di serio Aspettate Ok Quanto manca No No Cavolo Ok SQ Cazzo Ah Merda Si lo so Era tutto previsto Previsto Un cazzo Cazzo Non posso La corrente è troppo forte E c'è tanto Se tocco con le ruote Per terra Io non so Come cazzo fa Oh io mi sbato Così Mi fremo Quali Allora Allora Oh per fortuna Eh vabbè però Vabbè sempre a me Oh per fortuna Ci è mancato poco Cazzo Ma come fanno a reggere Oh Ho visto rami Rami minuscoli Come fa da far Sto salto disumano E rampicavo sui rametti Che reaggevano Ma fa un albero Così grande A non reagire Eh già Non era neanche nostra Non cercavo di proteggerti Solo che avevo fatto La promessa di smettere Con questa vita L'ho fatta anch'io Sì ma L'ho fatta Ok Ok Ah Sensato Possiamo andare avanti Quindi andiamo Ok Manca ancora Tanto E non devo No Forse no Spero sia dietro l'angolo Oh oh Ah no Forse una corrente Una corrente forte Per fortuna Che non lo era Tendiamo conto Il corrente E siamo Nei salmoni Adesso E proviamo E come? Come facciamo qua? Ah Mi direi di Andare di sopra Come c'è arrivata lì? Come c'è arrivata lì? Ah Ho capito Adesso Beh Sembra facile Fin qua Dai Ora salta giù Non è l'idea migliore O forse E' quello che bisogna fare Infatti Oppure un po' di là Esatto Esatto Siamo dalla parte giusta almeno Ok Perfetto Adesso Adesso Destra O sinistra Destra Con chi stai? Cos'è? Cos'è di valore? Ah Un'altra pagina Ok Non ho voluto Leggerla Ok Qualcosa di strano Successo E abbiamo sbagliato strada Però va bene Lo stesso Dobbiamo passare Attraverso la cascata Che Quando le rocce Rocce bagnate Non sono la scelta migliore Ok No Non c'è qualcosa di sbagliato? O forse no Sa che è giusta la strada? No Per niente Oh C'era quasi Allora Boh Che faccio? Su? Sì Su Dobbiamo essere gobby No di qua Mi fa Perfetto Di nuovo qui Sembra la stessa E adesso? Adesso di qua E da qua si va Ma lo sapete? Guarda dove andiamo Ah Giusto Dobbiamo No per me Ecco di qua Aveva sbagliato Ok Parte giusta? Sì Parte giusta Che si fa Cos'è? Sono Oh cavolo Quanti bordi sono? E dunque Ah Ora possiamo andare avanti E non stare qua a parlare di fosse comuni Eh Guarda il cartello Traditori Eh già Mille modi per muovere Qua fanno tutte le puntate Forse comuni Traditori Uh Cosa è molto felice E questo? No Ah sono delle piante Andiamo A new temple Senza fermarci Ok Qui Usiamo Ah Quando sei già morto Aha Ok Non vedo il terazzo di marzionari Ed è molto strano Aha Per fortuna Altre gabbia È sempre Ora abbiamo fatto Un giro davvero largo Lance Lance New Devil Oh Ah Ah Però Un modo bastardino Ah è vero Però siamo un pirata Dai Anche allora non è l'onore Ma bene ragazzi Il prossimo capitolo Lo comincieremo Una prossima volta E continuate a seguirci B Mi